L'emergenza coronavirus ha costretto le scuole ad attivare misure per la didattica a distanza, secondo quelle che sono le direttive ministeriali. Abbiamo in collegamento il dirigente scolastico dell'Istituto Stefani Bentegodi, il professor Francesco Rossignoli. Dirigente, ci può raccontare come la sua scuola sta affrontando questa situazione di emergenza? Lo Stefani Bentegodi, che è la scuola più complessa del Veneto, ha attivato dall'inizio della crisi del coronavirus alcune modalità di didattica a distanza che hanno permesso agli studenti di continuare a lavorare. Ha sfruttato ampiamente il registro elettronico mediante la consegna di materiali, compiti, esercizi che poi gli studenti hanno ridato ai docenti sempre attraverso il registro elettronico e in questi giorni sta avviando la sperimentazione per le classi virtuali che richiede un software che va prima provato e poi implementato. Certamente la situazione è una situazione che ci chiede molto sforzo, molto impegno, ma siamo sulla strada giusta e credo che riusciremo veramente ad accompagnare i nostri studenti in questo momento, non solo dal punto di vista dell'istruzione, ma anche dal punto di vista dell'accompagnamento, della relazione e dell'approfondimento del nostro essere comunità scolastica.